Ciao, sono Alice! Vuoi vedere il nuovo volantino? E dai, partiamo allora! Ciao, sono Alice! Visita anche il mio blog su TrovaVolantini. Vuoi vedere un altro volantino? Siete in tantissimi a guardare i nostri video su TrovaVolantini, ma non tutti ci seguite. Ricordate, iscriversi è gratis e basta un clic, ma per noi fa una grande differenza. Lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video? Vai in Impostazioni e scegli la velocità di riproduzione. Che ne pensi di queste offerte? Scrivi nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori. E tu, in quale negozio vai? Scrivilo nei commenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Su TrovaVolantini.it Le offerte della tua città a portata di un click. Grazie a tutti! 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 Chi vuole risparmiare? Usa, trova volantini.it Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video.